Ecco un frammento di un velluto molto raro e molto prezioso appartenente alla collezione di Palazzo Madama. È un velluto iraniano di epoca safavide, seconda metà del Cinquecento. Raffigura fagiani appoggiati su girali fioriti. I fiori rivelano sicuramente un'influenza orientale nel loro disegno. Il disegno è ricchissimo di colori, distesi per campiture uniformi che danno un effetto quasi smaltato sul fondo che era totalmente ricoperto d'argento. Vediamo ancora in molti punti i resti delle trame argentate che lo ricoprivano interamente. Velluti di questo livello eseguiti con orditi finissimi, posti in più colori. Questo velluto è detto a tre corpi perché ci sono tre orditi che lavorano contemporaneamente in ogni punto del velluto. erano di qualità eccezionale, una qualità che fu raggiunta in quegli anni proprio soltanto dalle manifatture iraniane durante il periodo della maggiore fioritura che si ebbe appunto durante l'epoca safavide. E' un'altra mente.